Guardate cosa succede ragazzi, guardate tutti insieme questa scena di Cyberbots Full Metal Madness Questa volta il nostro protagonista Gene Sautom affronterà questo strano essere che si chiama G.O.D Con il suo robot Warlock Vi saluto, iscrivetevi al canale e mettete un mi piace Non dimenticate che questo è Capcom Fighting Collection Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille!